Beh, lavorare con Piero Angela è un onore, è un onore straordinario, ma funziona così sostanzialmente che io fin dall'inizio, a parte questa consulenza per degli speciali, come si dice in gergo televisivo, ma in realtà lui poi mi ha proposto di essere una presenza fissa nell'edizione estiva di Super Quark. Ogni estate vanno in onda 7, 8, 9 puntate, dipende se ci sono i mondiali, le olimpiadi, ma insomma comunque, e fin dall'inizio, quindi ormai da una quindicina d'anni, lui mi ha proposto di fare un piccolo intervento in ogni puntata della serie estiva sostanzialmente. Il che vuol dire? Inventarsi, sono 8 puntate, io mi devo inventare 8 argomenti di storia piccolissimi, non conosciuti, che si possono raccontare in 5 minuti, chiacchierando io e lui. Quindi, butto giù queste proposte, lui le guarda, le approva, le ha sempre approvate tutte. In 15 anni, un'unica volta mi ha detto, guarda, questo argomento forse è meglio non toccarlo, perché gli avevo proposto di raccontare come l'immagine di San Francesco è stata manipolata nei secoli dall'ordine francescano, per vari interessi interni di bottega, diciamo così, che è un tema molto discusso fra gli storici del Medioevo, e in quell'unica occasione Piero mi ha detto, ma guarda, tu sai che alla RAI sono tutti lì che stanno in agguato, io sono laico, nella RAI ci sono tanti, e quel tema lì preferirei non toccarlo, altrimenti non ha mai minimamente censurato niente di cui io volessi parlare, e poi lavorare concretamente, niente, scopri come funziona la TV. Cioè scopri che ogni puntata di Super Quark che guardiamo è fatta di pezzi che sono stati girati in giorni diversi, in settimane diverse magari, perché per due giorni vado io e facciamo i miei otto pezzi. Ora non scoprire gli altarini a Piero Maggio. No ma queste non sono cose segrete, però devo dire che quando l'ho raccontato è una cosa che uno non immagina, diciamo, uno non immagina che di conseguenza Piero deve avere due esemplari dello stesso vestito, stessa camicia, stessa cravatta, in studio, perché ovviamente non è che puoi dire questo che stiamo girando in quale puntata andrà. Tutto quello che viene girato, lui deve essere vestito identico, e anche i capelli devono essere sempre esattamente della stessa lunghezza. Ci mettono due mesi a girare tutto, ma ogni giorno bisogna spuntare i capelli, perché poi i vari pezzi verranno montati. Uno andrà alla prima puntata, uno andrà all'ultima, e non è che lui può avere i capelli diversi. Sparisce un attimo, passa un filmato e ricompare lui con i capelli più lunghi. E quindi...